Sì, noi siamo molto contenti di aver avviato questa nuova collaborazione con il Trieste Film Festival e che Fabrizio sia venuto a trovarci, ovviamente. È nata sostanzialmente l'idea di mettere insieme le forze, delle forze che appunto hanno uno stesso obiettivo, che è quello un po' di promuovere un cinema che purtroppo non viene molto visto, non viene molto diffuso in Italia, è il cinema dei Balcani Occidentali per quanto ci riguarda, e quindi abbiamo naturalmente volto lo sguardo a chi prima di noi ha iniziato a fare questo lavoro, cioè il Trieste Film Festival, e li abbiamo contattati per capire se c'era la possibilità ovviamente di avere, di costruire qualcosa insieme, un percorso insieme. È il primo anno, abbiamo aperto il nostro Balkan Florence Express ieri con due film già proposti dal Trieste Film Festival, fra cui quello vincitore, insomma, di questo siamo grati anche a Fabrizio e al Trieste Film Festival, e questa è un po' la storia, ecco. Quello che posso dire è che io sono fermamente convinto del fatto che i festival di cinema in generale hanno una missione, che non è soltanto quella di fare una vetrina di film durante la manifestazione stessa, ma che si devono appunto porre l'obiettivo di diffondere, di far circolare, di far vedere il più possibile i film che propongono, le loro scelte culturali e così via. È venuto naturale quindi che ci fosse questo incontro, questa collaborazione con questa bella manifestazione di Firenze. Devo dire anche che l'idea da cui siamo partiti, anche con lo staff organizzativo del festival, è quella che questo sia il primo passo di un'iniziativa appunto di diffusione e di circolazione dei film dei paesi balcanici, in particolare dei film che provengono dall'area dell'ex Jugoslavia. Ci piacerebbe che questa selezione poi potesse circolare ulteriormente anche in altre sale che fortunatamente esistono nel resto del territorio nazionale, ovviamente soprattutto nelle grandi città, ma non solo. Quindi questo è veramente una edizione di prova per quanto riguarda questa collaborazione, ma il nostro obiettivo, ripeto, è quello di essere un punto di riferimento per quelle aree, per le produzioni, gli autori di quelle aree appunto perché possano sempre di più trovare un pubblico, anche se siamo convinti che questo non sia poi un cinema, come dire, soltanto di nicchia. Ecco, siamo sempre di più le società di distribuzioni commerciali che si interessano a queste aree, a questi film e quindi insomma noi cerchiamo di facilitare un processo che è già in atto, insomma una tendenza che si sta già sviluppando.